Ciao, è tanto che non registro una traccia audio per il sito Meta Didattica e questa volta ho proprio voglia di proporti un'attività da sperimentare in classe da subito. Sto parlando dell'applicazione della tecnica del pomodoro, una tecnica che ho già descritto nel sito, quindi puoi ricercarla al suo interno, che serve a gestire il tempo. Te l'ho proposta originariamente come tecnica da poter utilizzare con singoli ragazzi oppure da utilizzare tu stesso per gestire al meglio il tuo tempo. Questa volta però voglio proportela come un utile strumento per riuscire a gestire al meglio le attività che tu proponi e che svolgi in classe con i ragazzi. A cosa può servirci quindi utilizzare un timer che vada a definire dei pomodori di tempo, quindi delle unità di tempo da 20, 30, 40 minuti che possano rappresentare unità di lavoro per poi lasciare spazio anche ad unità di tempo, più brevi, magari 5 o 10 minuti per godersi una bella pausa. A cosa può servirci? Beh, gli obiettivi e i risultati, gli effetti possono essere davvero tanti. Per prima cosa noi stessi come insegnanti riusciremo a tranquillizzarci perché riusciremo ad organizzare meglio il tempo sapendo in anticipo e cominciando a sviluppare consapevolezza di quanti pomodori, di quante unità di tempo quindi potrebbero essere necessarie per svolgere quella o l'altra attività. Ci tranquillizzeremo anche perché ottimizzando il tempo di lavoro, quindi rendendo di più, non ci troveremo a fare le corse, a chiudere le lezioni con l'acqua alla gola, a non riuscire a chiudere le lezioni come vorremmo. Inoltre non rischieremo di sopravvalutare o sottovalutare il tempo a disposizione perché a volte purtroppo si rischia di far quello, quindi molto spesso si sopravvaluta forse il tempo, cioè si spera o si ritiene che si riescano a trattare tutti gli argomenti o a proporre tutte le attività che si hanno in testa ai ragazzi, ma il tempo sembra non bastare mai. Inoltre riusciremo a trasferire un metodo davvero interessante agli studenti, quindi in un'ottica di didattica per competenze, se i ragazzi impareranno a utilizzare una tecnica di questo tipo per gestire anche il proprio tempo, nello studio, ma in futuro anche il proprio tempo di lavoro, sicuramente gli staremmo facendo davvero un ottimo regalo. Poi riusciremo ad aumentare i livelli di attenzione in classe perché la qualità aumenta la qualità dell'attenzione. Se io ragazzo conosco quanto tempo ancora dovrò dedicare all'attività e vedo scorrere il tempo come se fosse, immagino una barra di installazione di un programma sul computer, pensa a quanto sarebbe più, in questo caso tra virgolette, stressante seguire un processo di installazione che non ti comunica la percentuale di avanzamento di quell'installazione, di quel processo. Probabilmente molto più spesso impazziremmo o perderemmo la pazienza perché non sapremmo cosa sta accadendo. Invece vedere il tempo che scorre, sapere che mi trovo a metà magari del tempo che l'insegnante dedicherà e vuole dedicare a quell'attività o che mi trovo a tre quarti, che sta per finire, che fra un po' avrò la pausa diminuisce i livelli di stress e di insofferenza dei ragazzi nei confronti delle attività proposte. Inoltre un ultimo effetto davvero utile ed interessante è la valorizzazione del tempo da dedicare alle doverose pause. Molto spesso purtroppo non si valorizzano così tanto si sottovaluta l'importanza di dedicarsi al riposo o alla pausa, allo svago tra l'altro c'è una ragione anche organica, una ragione fisiologica i neurotrasmettitori che servono a funzionare bene che servono al nostro cervello per imparare, per apprendere, per produrre dopo un po' terminano. è quello che sortisce effetti anche nella curva dell'attenzione, nella soglia dell'attenzione. Quindi imparare a dedicare il giusto tempo, la giusta attenzione, i giusti spazi alle pause risulta davvero importante. Quindi ti invito ad approfondire la tecnica del pomodoro nel sito metadidattica in alto a destra trovi la sezione ricerca nel sito puoi introdurre ed inserire le parole chiave tecnica, pomodoro ma lo troverai molto facilmente puoi cercarlo anche su Google direttamente se vuoi approfondirla, imparare a utilizzarla volendo puoi partire anche da te stessa ma puoi anche buttarti a farla con i ragazzi, con i bambini mi raccomando, sono curioso di sapere come andrà fammi sapere e alla prossima ciao